Finalmente Italia, ora puoi sorridere. Sono state assegnate a Milano Cortina i giochi olimpici invernali 2026. Allo SWIC Tech Convention Center di Lausanna le due città italiane hanno superato la guerrita concorrenza svedese di Stoccolma-Hare. L'Italia tornerà quindi ad ospitare i giochi invernali per la terza volta nella propria storia, 20 anni dopo Torino 2006 e 70 anni dopo l'edizione di Cortina 1956. Il tricolore può tornare a festeggiare per l'organizzazione di un evento mondiale che porterà introiti e visibilità al nostro paese. A commentare il successo di Milano Cortina anche Matteo Salvini, ministro dell'interno. Vincono l'Italia, il futuro e lo sport grazie a chi ci ha creduto fin da subito, soprattutto nei comuni e nelle regioni e peccato per chi ha rinunciato. Ci saranno almeno 5 miliardi di valore aggiunto, 20.000 posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi. Con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacità, ha dichiarato Salvini su Twitter. Sempre sui social network ha parlato anche Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. Siamo orgogliosi di questo grande risultato. Ha vinto l'Italia, un intero paese che ha lavorato unito e compatto con l'ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile. Neymar vuole la Barcellona ed il Barcellona vuole Neymar. La trattativa per il ritorno del fuoriclasse brasiliano dal PSG ai Blaugrana è un'ipotesi reale. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il presidente dei catalani, Bartomeu, starebbe studiando un piano per riportare il calciatore in Catalogna. Neymar viene valutato dal club francese circa 250 milioni, troppo per il presidente del Barça, secondo cui la cifra giusta sarebbe 200 milioni di euro. Nel caso in cui poi la trattativa decollasse, il giocatore dovrebbe accettare di ridursi l'ingaggio in quanto i Blaugrana non sarebbero disposti a pagare i 36 milioni di euro che attualmente percepisce nel PSG. Attenzione poi anche al frontecessioni perché il Barcellona dovrà chiaramente vendere qualche giocatore illustre ed il nome di Coutinho sarebbe il primo della lista. A quel punto sarebbe possibile dare il via all'operazione per accontentare tutte le parti, anche perché Neymar desidera tornare a casa ed il Barcellona lo sta già aspettando a braccia aperte. Il Perugia presenta il nuovo allenatore Massimo Oddo. I nomi si fanno, ma i nomi si fanno più che altro per far capire le caratteristiche di un giocatore. Il primo nome che gli ho fatto è stato Di Bala, però ovviamente Di Bala non lo può prendere il direttore, però ha capito certamente che tipo di caratteristiche voglio e sa perfettamente questo. L'importante è questo quando si costruisce una squadra. Poi il mio mestiere è quello di avere a disposizione i giocatori, cercare di migliorarli individualmente, cercare di creare un'unità di intenti nel gioco. L'amministratore delegato del Monza, Adriano Gagliani, nega la possibilità di arrivo di giocatori del Milan in Brianza. No, grandi colpi sul mercato, noi stiamo facendo un mercato molto importante. Se per grandi colpi intenti i giocatori del Milan, no, per capirsi. No, assolutamente. Stiamo prendendo giocatori che sono, voglio dire, giocatori che hanno giocato tra la Serie A e la Serie B, 3-4 giocatori li abbiamo praticamente conclusi.